...dorsi, quindi abbiamo... Un brano dei dorsi Sembra di certo Solli che ci abbia un pollo E non c'è www.cassion.com Se ci abbia un passaggio e a incibere tutti i nostri Solli che ci abbia un pozzo Allora, come portà ... Trazione il nostro Hudhepato Come portà Come portà Grazie a tutti Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the light on fire Come on baby light my fire Grazie a tutti. 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 Come on baby, light my fire, come on baby, light my fire. Try to shut the man on fire. Grazie a tutti.